Sì, ma guarda il cane del dragger E' vero qui 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 Subito, chiaro E ti hanno fatto il palloncino? Non ho mai fatto? No, palloncino mai Cosa ti hanno fatto? Allora... Ci hanno provato con te? Uno sì Assurdo comunque Io veramente Solo uno Però vabbè non è che ci ha provato esplicito Praticamente mi hanno fatto accostare E mi ha detto Signorina scendo dalla macchina Si metta 90 signorina Sì Cioè Praticamente è andata più o meno così Cioè mi fa Mi fa Allora adesso Deve cercare il triangolo Dentro il suo bagagliaio Perché ogni macchina deve avere il triangolo Per essere in regola Solo che io non so dove cazzo posso Questo triangolo E quindi c'erano questi due Che se la ridevano Mi dicevano cerca più in fondo Così E io così nel bagagliaio Che cercavo sto cazzo di triangolo E poi una certa mi fanno Era Vedo tipo Un coso rotondo In un cilindro Ed era nel cilindro Ma io posso pensare Contriangolo sta nel cilindro Cioè Quindi ho tirato fuori il coso E loro mi fanno Ha ha Vabbè hanno fatto un po' di scemi Ma voi siete americani di provviso No vabbè Hanno fatto un po' di scemi Però poi Sono andata via e basta Poi Ah quando io ho dato il libretto Mi dicevano Ma questa macchina l'hai rubata vero? Così mi tiravano in mezzo Io dicevo No E mi fanno Non lo sappiamo che l'hai rubata Adesso io di venire con noi Mi tiravano pazza Ma ti sei sentita un po' molestata? No Mi ha fatto ridere Easy Poi era giorno Ah era giorno Sì Ah vabbè Ma a me non mi ha mai fermato Mai Mai E non neanche mai visto un posto di blocco a Milano Onestamente Il Drago Freebooter 2 Ti seguo Bomba comunque Grazie del supporto Di supporto